Ma se andate alla riserva, sì, guardando sulla riserva, guardate a Badecorallo, questi sono posti fondamentali, veramente, non so se ci siete stati mai in riserva, guardandovi là è tutto, abbiamo un posto che affittamente c'è, mancanza di un paese un pochettino difficile sull'ambiente, anche per noi non è, c'è sempre chi vuole fare prima, chi va a rompere, perché abbiamo un posto che effettivamente è una meraviglia sul senso da palo, ci mancano quelle che ci mancano, ma abbiamo posti magnifici e ce li invidiano, la gente veramente, la prima volta che capita di qua, gente che vengono in riporre, ce li invidiano sul vero senso da palo.